Uno schema eseguito alla perfezione, palla a terra, scarico all'altezza del dischetto, si è distratta la linea difensiva della tira, l'ha colpita, Yari Van de Putt. Nono minuto di gioco, si sblocca questo match con il giocatore sicuramente più costante in questa stagione. L'attaccante ha festeggiato nel migliore dei modi il rinnovo contrattuale, la girata in maniera impeccabile, nulla da fare per Nocchi, uno a uno al Ceravo, l'ha trovato il pari, il Latina sorpreso, il Catanzaro e dunque alla mezz'ora ancora si ritorna sui binari della parità. delivera che la doveva risolvere lui, straordinario gol di Federico Vasquez, a un minuto dalla fine del primo tempo, Catanzaro 2, Latina 1, da vedere, rivedere, 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 rivedere. Federico! 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 un cecchino dal dischetto l'argentino ancora in gol dagli 11 metri freddo freddissimo